In arrivo sull'Italia un calo termico con venti freddi e nevicate in molte zone del nord. Secondo gli esperti del clima, da mercoledì un ciclone invernale raggiungerà il paese, generando un'intensa fase di maltempo che durerà almeno fino al weekend. La neve cadrà fino in pianura su molte aree del nord, come indica il sito www.ilmeteo.it. Torneranno inoltre diffuse gelate, il tutto in un contesto climatico praticamente invernale. La situazione generale vede un afflusso d'aria più fredda dai quadranti nord-orientali che alimenterà la formazione di un vortice di bassa pressione atteso nei prossimi giorni. Martedì 1 dicembre le temperature non faranno registrare grossi scossoni di giorno, mentre la notte scenderanno un po' al nord e nelle vallate interne del centro. Ci attendiamo dunque valori prossimi se non al di sotto dello zero su Valpadano e nelle vallate più interne centrali, dove torneranno diffuse e brinate. Ma la fase più rigida è comunque attesa tra le giornate di mercoledì e venerdì, quando l'azione dell'aria fredda unita alla fase di forte maltempo porterà valori diurni davvero molto rigidi a tratti anche sotto la media. La forte e frizzante ventilazione sarà la base di una maggiore percezione del freddo. Grazie.